Allora, siamo ritornati insieme. Abbiamo parlato dei casi di omicidio, da parte, parliamo dell'uomo, visto che voi avete puntato l'attenzione sulle donne, nei confronti della propria compagna, moglie o quant'altro, e poi ci si toglie la vita. L'odio, è l'odio, cioè non andiamo a semplificare troppo, oppure può essere un odio così forte che spinge a un gesto estremo nei confronti del mio compagno, ma estrema ancora di più quando uno toglie se stesso la vita? Sì, alla base... E siccome lei è tra l'altro anche uno psicanalista, non può esserci anche una forma di psicopatologia, ma allora è così diffusa? Ecco, sgombrerei il campo da possibilità di tipo psicopatologiche. Quindi non hanno speranza, qualora non si fossero uccisi, di avere la dichiarazione di incapacità di intendere chi vuole, anche momentanea. Non è questo il terreno. Siamo nel campo di persone cosiddette, tra virgolette, normali. Quindi una persona normale che noi possiamo avere a fianco, conoscere, eccetera. Assolutamente. In questa persona scatta un meccanismo. A un certo punto interviene l'ira, la rabbia, il rancore che porta alla vendetta. Certamente è un processo che è subitaneo nell'atto che sfocia, magari, nell'atto violento, nel lato in cui qualcuno viene picchiato, percosso, ferito, addirittura ucciso. Ma è chiaro che è un processo che va avanti già da tempo. Ma non come forma di malattia, come forma di insoddisfazione, come forma di idea che io subisco, sto subendo un torto. Tu mi stai facendo un torto, non capendomi, non aiutandomi. Quindi la propria sfera individuale viene violata. Sì. E in quello che riguarda poi le relazioni tra uomo e donna, vige purtroppo ancora una nozione di possesso. Molto spesso uno dei due componenti, la coppia, talvolta anche entrambi, è dell'idea che il partner è suo. E' cosa sua. E questo non è solo dell'uomo verso la donna, anche se è molto più frequente, anche per ragioni storiche e quant'altro, ma anche può essere viceversa. E comunque c'è questa nozione di possesso. Quindi quando si perde il proprio giocattolo tra virgolette. Quando, esatto, quando c'è il pericolo, oppure proprio la certezza, che la relazione si conclude. E quindi c'è l'idea di perdere, di perdere il bene di cui si aveva il possesso, questa perdita risulta insopportabile. E' un torto. E' una cosa grave. E quindi ecco i casi magari anche che vengono fatti di stalking, portato all'esasperazione. E mo' sono molto frequenti da parte dell'ex rifiutato o quant'altro. Non viene capita l'esigenza che la donna, per esempio, ha in altre direzioni. E viene giudicato che è incompatibile, è impossibile che quell'unione, che fino a poco tempo sembrava andare così bene, sembrava significare la riuscita della vita di entrambi, sembrava proprio coronare l'idealità della perfetta unione, possa invece cambiare. Questo cambiamento non è accettato, è inteso come una ferita, è inteso come una perdita grave e contro questo scatta una vendetta. Non è in tutte le persone che scatta questo meccanismo. Quindi quali sono le personalità più a rischio di incappare in questo circolo di odio e poi che si scatena, si manifesta con la violenza e devono anche stare attenti alle proprie relazioni, controllarsi o farsi consigliare, supportare in un percorso. Perché ovviamente non è così, perché altrimenti tutti alla prima lite, al primo diverbio, eccetera, reagiremo in certo modo. Quindi quali sono le personalità più fragili e più a rischio? Più fragili oppure più complesse o sono delle esperienze vissute? Che cos'è che dal vostro studio emerge? La questione è complessa. Non è che si possa parlare di tipi o di personalità le quali sono geneticamente... No, no, geneticamente, cioè non si parla di... Sono congiunture. Occorre anche tener conto che possono essere anche congiunture particolari che si stanno verificando in quel periodo della vita. persone che a un certo punto incontrano difficoltà nel lavoro, nella vita di relazione e quindi anche in famiglia con o la propria moglie o la propria compagna, è come se un vaso si riempisse, no? E allora a un certo punto non viene trovato il modo di affrontare questa cosa. non viene trovata la via per trovare un'articolazione, perché in realtà certe volte si tratta di chiarimenti da fare per trovare... Ma voi anche supportate delle persone in questo? Oppure voi fate soltanto studi? La mia attività è quella di psicanalista e quindi... L'è contatto, perfetto. L'è contatto, l'è contatto, l'è contatto, l'è contatto persone. Ma sente nel percorso del racconto della persona che questa persona potrebbe avere un certo tipo di reazione oppure è imprevedibile? Cioè c'è un meccanismo di imprevedibilità? La cosa è sicuramente imprevedibile. Cioè se fosse prevedibile allora si riuscirebbe anche a evitare che accadano certe cose. No, no, è del tutto imprevedibile perché è una combinatoria attraverso cui a un certo punto... Però c'è molta volta c'è premeditazione, perché tanti gesti implicano una serie di prodromici precisi, insomma. Quindi non è redattato dall'ira improvvisa, ti prendo un vaso, quello che è il primo che trovi e ti spacco la testa. C'è l'arma, c'è la situazione in cui è una sola casa, i bambini, i quadri, insomma. Tutto un'assessualità, un iter per cui c'è la premeditazione. Questo è vero, però quanto più la cosa è premeditata, tanto meno è divulgata. Cioè non è che uno che premedita qualcosa lo va a raccontare in giro. Quindi se un'azione violenta è premeditata, tanto più è difficile... Quindi un odio cieco, insomma, un odio che non consente di agire su un canale senza potersi sfogare da nessuna parte. Certo, perché la premeditazione evidentemente comporta tutta una costruzione per cui il rancore verso quella persona trova una serie di conferme fantastiche, anche se vogliamo. Però lì siamo nel campo dove più è difficile poter intervenire. Diciamo che molto più spesso invece sono reazioni violente che seguono a un'ira momentanea che non è controllata, non è contenuta e sfocia quindi in un'azione violenta. Ma sfocia nei confronti, molte volte, della donna perché chi la attua è più debole? Quindi si sente psicologicamente più debole e di così... Perché normalmente chi reagisce con la forza e così c'è l'espressione della debolezza oppure per altre ragioni. Dopo le spiego anche perché questo ragionamento... In realtà è così. Ogni forma di soprafazione per cui viene esercitata una prestanza, una violenza o una forma di invasività nei confronti di qualcun altro, sorge dall'idea di una propria debolezza. Da un'idea di non riuscire a fare a meno di ciò che quella persona ci dà o ci aveva dato. Quindi in nome di un ricordo o in nome di un'idea per cui noi in realtà siamo deboli. Questa debolezza comporta una reazione violenta. La donna che sente che c'è un certo tipo di rapporto che potrebbe ha paura ma lo nasconde anche a se stessa, lo nasconde anche agli altri perché quando c'è questa sensazione magari ci sono reazioni diverse. A che cosa dovrebbe stare attenta? Perché sappiamo che questo è un argomento che è stato sviscerato moltissimo, ci sono delle approfondimenti anche molto interessanti su questi elementi. Lei cosa si sente di dire? Quindi ci sono dei prodromi senza dubbio, ci sono dei sintomi che vengono trascurati, delle reazioni che vengono trascurate, su cui si passa sopra, come dire. Certamente. Che cosa si sente di dire? Certamente ci sono delle storie che diventano note magari dopo anni in cui all'interno si verificano momenti anche drammatici, no? Che però vengono sempre perdonati, la cui elaborazione viene sempre rimandata. quando ci si trova di fronte a un atto violento occorre assolutamente intervenire. Quale può essere l'atto violento? Ma da uno schiaffo a una forma impositoria, a una prescrizione che è lesiva della libertà in ogni direzione. Quindi anche uno schiaffo, uno schiaffo. Dice ma mi ha dato solo uno schiaffo. No, come mi ha dato solo uno schiaffo? Ha dato uno schiaffo, è una cosa intollerabile, è una cosa che non può essere assolutamente accettata in nessun caso. Quindi nel momento in cui una persona si sente, si trova, non solo con la fantasia voglio dire, ma effettivamente subisce una forma di... Di invasione della propria sfera più personale. Questo non deve essere accettato e soppito. Deve essere un momento che richiede di mettere in chiaro alcune cose. Perché se in quel momento qualcosa può essere ancora attuato, dopo due, tre, quattro, cinque, dieci volte, basta. Quindi lei dice che c'è un momento iniziale in cui intervenendo, cioè se l'ipotesi, la coppia, magari ancora non sono sposati, avviene uno schiaffo, una reazione fisica oppure un'imposizione netta. La donna se ne accorge, dice che è avvenuto questo. A quel punto cosa può fare per far sì che si interrompa questa catena che poi può diventare veramente un'escalation del terrore e magari sfociare in modo, se lei dovesse lasciare il compagno, poi abbiamo visto quello che poi è successo. Quindi si deve prendere veramente una decisione. Cioè? Cioè che quella relazione o trova un altro modo per cui le esigenze individuali di ciascuno sono accolte e quindi si trova un dispositivo di tolleranza reciproca, oppure non può proseguire, non deve proseguire. Proseguendo a cosa va incontro? Ha delle conseguenze ben più gravi dopo. Assolutamente. Quindi è bene che a quel punto la persona si faccia aiutare. Al primo indizio. Al primo indizio. Cioè ci sono casi che vengono poi riportati. Era già da tanti anni, era già da qualche anno che le cose non andavano bene. Cosa ci si aspetta poi allora? Che automaticamente, in virtù di non si sa bene cosa, un problema che già c'è, è vivo, ha comportato delle manifestazioni tangibili, se non viene affrontato peggiorerà. Assolutamente. E i casi invece in cui la persona era fuori da ogni possibile sospetto, molto calmo, molto tranquillo, molto controllato, e poi queste sono queste relazioni improvvise? Beh, occorre diffidare dall'eccessiva calma, controllo, eccetera. Cioè, un'emozione, in qualche modo deve pure intervenire. È impossibile essere completamente misurati, controllati, a meno che non ci sia, non lo so, una pratica di meditazione assolutamente, oppure di elaborazione di ciò che accade in maniera intensa, che porti ad accogliere quello che accade senza drammatizzazioni. Ma questo richiede una formazione specifica. Quindi è chiaro che all'interno di un corso formativo, di un'esperienza analitica, può giungere questa serenità, questa tranquillità. Anzi, è un percorso che viene fatto apposta, no? Per riuscire ad affrontare le cose. Nel migliore dei modi, assolutamente. Con la serenità che la vita esige per poter proseguire in termini di soddisfazione. Ma al di fuori di questo è sospetta che ci sia proprio questa forma di impassibilità verso le cose. Allora, detto questo, vediamo un po' dopo la pubblicità di aprirci il discorso della famiglia, quindi le dinamiche familiari scorrette, ma anche il contesto sociale più ampio. e quindi altre manifestazioni che si possono scatenare oppure no, tra poco.